Partiti! E Speedrun al termine della prima curva, in vantaggio il Camerlengo davanti a Razila, Go Boy Go, Paititi, The Irish Champ, Lino Type e Locchetti, Rail Prince, Aquarius, Original Gypsy, Refustuband, Tulove, Grooming, The Park, Speedrun e Luigi Celli. Partiti! Poco prima dell'ingresso, in vantaggio il Camerlengo davanti a Rail Prince, Lino Type e Aquarius. I cavalli entrano in dirittura con il Camerlengo in vantaggio, attaccato all'esterno da Go Boy Go, Lino Type, a centropista Rail Prince con più all'esterno Aquarius e Speedrun. E in leggero vantaggio Rail Prince davanti ad Aquarius, Speedrun, il Camerlengo, Checchino conduce Rail Prince davanti a Speedrun, Aquarius e il Camerlengo. Rail Prince! che bel arrivo, Speedrun e c'è Aquarius al terzo posto, si dice allo seccato posto, allo studio!